Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, oggi siamo al quarto episodio per quanto riguarda il tutorial corso base di Final Cut e oggi parliamo di keyframes, ovvero delle animazioni. Queste animazioni ci permetteranno di rendere il nostro video più bello da vedere, che cos'è in sé per sé un keyframe se non è altro che uno strumento che Final Cut ci mette a disposizione che ci permetterà di creare un'animazione da un punto iniziale a un punto finale. Ovviamente questo keyframes viene applicato su tutti i tipi di file che noi andiamo a lavorare nella nostra timeline, quindi immagini, testi, clip video e anche tracce audio, quindi possiamo andare a creare varie animazioni che si adattano alle varie situazioni del nostro video. Ovviamente tutto questo sicuramente è arabo per voi, però state tranquilli che nel corso di questo video cercherò di farvi capire al meglio che cos'è un keyframes. Inoltre ragazzi sul mio canale troverete tantissimi tutorial per quanto riguarda Final Cut, vi lascerò il link della playlist in base alla descrizione oppure qui sopra nelle schede. All'interno troverete tantissimi video tutorial di corso base o come scaricare ad applicare degli effetti o come utilizzare alcune funzioni determinate di Final Cut. In più ragazzi, cosa molto molto importante, seguitemi su Instagram e su Telegram perché lì vi aggiorno in tempo reale su tutto quello che farò qui sul mio canale di YouTube. Che è cosa molto molto più interessante, sul canale di Telegram da qualche settimana sto anche pubblicando delle offerte super super vantaggiose di prodotti elettronici, quindi di tecnologia, fotografia e tanto altro. Quindi dateci uno sguardo perché potreste trovare davvero degli ottimi affari. Ma adesso bando alle ciance e passiamo direttamente su Final Cut così vi mostro come utilizzare al meglio questi keyframes. Allora ragazzi, come avete visto l'introduzione di questo video, vi ho mostrato un timelapse registrato da me tramite GoPro Iro 7. Il timelapse in questione è questo qui. Come potete vedere ho dato un'animazione tramite i keyframes di profondità e di movimento perché la clip originale è questa qui. Come potete vedere è statica insomma, non si muove, non c'è movimento se non che è quello del timelapse ovvero le nuvole e lo scorrimento del tempo perché qui semplicemente cosa ho fatto? Ho posizionato il treppiedi come giustamente si fa per creare un timelapse, ho lasciato scorrere il tempo quindi 4-5 ore e alla fine mi sono ritrovato con questa clip qui di pochi secondi. Davvero molto bella però per renderla ancora più bella cosa ho fatto? Sono andato a creare appunto l'animazione, poi ci ho fatto una color e l'ha resa davvero molto bella da vedere. Quindi come facciamo per creare questa animazione sulle nostre clip? Molto semplice, basterà appunto prendere il file originale. Ovviamente questo metodo qui dei keyframes va bene su quelle clip che sono diciamo ferme come per esempio il timelapse o qualche altro tipo di clip ferma dove non vogliamo dare movimento. Molto semplice ragazzi andiamo appunto a selezionare la clip in questione, subito dopo andiamo a cliccare qui sul comando transform, una volta che saranno apparsi questi puntini blu andiamo a diminuire del 50% proprio appunto per facilitarci il lavoro. Quindi una volta che sono apparsi questi puntini blu che stanno a indicare il riquadro di transform, frecchiamoci qui a destra nell'ispector. Qui andiamo nella voce riguardante transform. Come potete vedere ci sono varie voci e qui vari diamantini, ovviamente in varie opzioni, per esempio nella voce crop, distort e tanto altro. Però noi adesso per quanto riguarda le animazioni dobbiamo posizionarci su transform. Allora qui abbiamo position che sta a indicare appunto il movimento, come potete vedere i numeri cambiano dell'asse x e dell'asse y. Quindi noi possiamo andare a lavorare sia sulle impostazioni da inspector che tramite manualmente appunto tramite mano qui sull'anteprima che vi consiglio di fare perché è molto più comodo. Dopodiché qua abbiamo la voce rotazione che ci permette appunto di ruotare l'immagine, come potete vedere qui nell'inspector sta cambiando il valore. E qui abbiamo scale che sta a indicare appunto la dimensione del nostro file, in questo caso un file video. Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto una volta che abbiamo appunto questi paio di transform dobbiamo appunto inserire il cursore all'inizio della nostra clip. E subito dopo se vogliamo fare un movimento oppure vogliamo fare un movimento più regolazione di dimensione, basterà cliccare il keyframe qui su position e su scale. Che automaticamente verranno aggiunti scale x e y. Dopodiché richiamoci in timeline e prendiamo il nostro cursore e diciamo che da qui dall'inizio fino alla fine del video voglio ottenere un movimento con zoom e spostamento. Ovviamente ragazzi nel momento in cui noi andiamo alla fine del nostro clip video, della nostra immagine, del nostro testo, torniamo indietro di un passo, quindi di un frame con la freccetta sinistra. Fino a quando non riappaiono appunto i valori di transform, questi pallini qui. Quindi a questo punto basterà zoomare e vi consiglio di usare il comando DALY SPECTOR. E subito dopo vorrei che nel corso del tempo della mia timeline, appena scorre il video, voglio che il video si focalizzi appunto su queste nuvole. Come potete vedere spostando appunto l'immagine qui si è creata una linea rossa, questa sa indicare il movimento, quindi da qui a qui ho dato questo movimento più zoom. Quindi basterà fare done per confermare il tutto e tornare appunto qui. Quindi se noi adesso andiamo a mettere la dimensione normale e andiamo a cliccare play, potete vedere che ci sarà appunto questo movimento. E qui ovviamente nell'ispectro ci saranno tutti i valori che stanno aumentando in maniera automatica. E' molto semplice ragazzi. Inoltre possiamo anche andare a creare altre animazioni, però vi consiglio di metterne massimo due. Per esempio possiamo far sì che da qui a qui ci sia uno zoom e da qui da qui ci sia uno zoom in auto. Quindi da qua a qua aumentiamo lo zoom, da qui a qui possiamo spostare e diminuire. Per esempio richilchiamo la clip che vogliamo andare ad animare. Il comando TRANSFORM. Una volta che ci sono i pallini andiamo a diminuire la dimensione. Subito dopo passiamo qui nell'ispectro e andiamo in position e scale. E diciamo che da qui a qui vorrei soltanto uno zoom. Ok? Subito dopo. Riclicchiamo appunto position e scale. E diciamo che da qui, dall'inizio a qui. Spiegiamo il pulsante sinistra per tornare di un frame indietro. Affinché compaiono le linee di TRANSFORM diciamo che vogliamo uno zoom in più spostamento. Mi raccomando non cercate di uscire perché poi guardate ci saranno delle bande nere orribili da vedere. Quindi cercare sempre di rimanere all'interno dell'anteprima. Dopodiché possiamo cliccare su done. In questo caso abbiamo appunto inserito due animazioni alla nostra clip. Quindi andiamo all'inizio, mettiamo appunto modalità normale e vediamo un po' le doppie animazioni. In questo caso iniziamo con un zoom in, quindi stiamo entrando dentro la clip. E verso metà dovrebbe ritornare allo stato normale, come in questo caso, e spostarsi verso sinistra. In questo caso abbiamo creato una fantastica animazione, devo dire, con un ottimo spostamento. Ovviamente adesso è un timelapse, va velocizzato, quindi basterà insomma fare così. Andiamo verso un 400 e come potete vedere l'effetto è molto più carino. Poi con una musichetta sicuramente è più carino. Ovviamente ragazzi tutto sta a voi, puoi testare e riprovare. Ovviamente questo metodo va anche utilizzato con qualsiasi altro elemento nella nostra timeline, che sia un titolo, un'immagine, una traccia audio oppure un altro video. Per esempio facciamo finta che stiamo facendo un picture in picture, che già ve ne ho parlato in uno scorso video. Allora facciamo finta che questo sia un documentario o un gameplay. Innanzitutto ridimensioniamo questo e creiamo appunto il picture in picture. Quindi andiamo qua, selezioniamo la clip, comando transform, una volta che appaiono i pallini blu, basterà cliccare su position, scale e subito dopo. Diciamo che da qui all'inizio verso la fine, mi raccomando dopo tornate di un frame indietro con la freccia sinistra, vogliamo che la nostra clip da qui vada qui. Clicchiamo su done e come potete vedere la clip appunto si sposterà, no? Possiamo quindi giocare con questi keyframe e creare appunto degli effetti davvero davvero carini. Facciamo un esempio con un titolo, ve l'ho creato uno velocemente per non perdere tempo nel video. Possiamo fare così, quindi selezioniamo, mettiamo il cursore all'inizio del titolo, selezioniamo il titolo, transform, una volta che appaiono questi pallini di transform, clicchiamo su position e scale e anche su opacity, che sta a indicare appunto l'opacità del simbolo. Possiamo andare a creare un effetto blur, che ne so, qui potete scrivere, invece di provare un'azione potete scrivere chiocciola il vostro nickname di Instagram e creare appunto un'animazione perché richiami il vostro profilo di Instagram oppure iscriviti al canale, insomma potete scrivere quello che volete. E con l'opacità possiamo appunto poi creare l'animazione di svanimento, no? Del titolo. Quindi clicchiamo anche su opacity e diciamo che dall'inizio fino alla fine, quindi vi raccomando ricordatevi di tornare indietro di un frame con il tasto sinistra, fino a quando non appaiono i quadratini blu, diciamo che vogliamo scala, vogliamo diminuire lo zoom, vogliamo che il nostro nickname, il nostro titolo vada qui o qui, come volete ragazzi, guardate il movimento che fa e subito dopo appunto che torni a 100, che deve sparire. Quindi clicchiamo Done e vediamo un po' che cosa ne è uscito fuori. Quindi da qui gli abbiamo dato uno zoom e subito dopo l'animazione verso il basso e come potete vedere sempre nell'inspector sta aumentando il valore dell'opacità, quindi a breve il nostro titolo verrà appunto a scomparire, verrà a meno, come in questo caso. Un'altra cosa molto bella che potremmo fare, per esempio questa è una cosa che è una chicca che ho scoperto io e non ve lo dirà sicuramente nessuno, come facciamo per velocizzare appunto queste, queste diciamo transizioni, no? Che abbiamo dato queste animazioni per quanto riguarda i titoli. Molto semplice, basterà cliccare sul titolo, cliccare New Compound Clip, subito dopo vi riuscirà a questa finestra, clicchiamo appunto su OK e si andrà a creare appunto il titolo, che non sarà più modificabile. Quindi che facciamo? In questo caso va a ridursi, subito dopo inizia a spostarsi verso destra, da qui clicchiamo Shift più B e si aprirà, come potete vedere qui in alto, una banda di velocità. In questo caso la banda che non andremo a toccare è questa, lasciamo la velocità normale, come potete vedere normal 100, mentre invece qui andiamo sulla freccetta e andiamo su Fast. Ovviamente questa banda, tutte queste cose di velocità e slow motion, come potete vedere, ve ne ho parlate in determinati video, che vi lascerò in basso in descrizione. quindi andiamo su Fast per aumentare la velocità e scegliamo un 4x. Dopodiché, cliccando appunto Play, potete vedere che l'animazione tenderà a velocizzarsi, ecco qua. Ovviamente poi più si diminuirà qui la dimensione, più aumenteremo la velocità. E così via, più allungheremo e più sarà più lento e ritornerà appunto a velocità normale 100%. Quindi ragazzi, come avete potuto notare, è davvero molto semplice applicare questi keyframes. Ovviamente ci vuole della pratica per poter capire al meglio il discorso, ma è davvero molto semplice. Basterà appunto dare un input e un output, quindi un inizio e una fine dell'animazione. Mi raccomando ragazzi, cercate di creare queste animazioni, di utilizzare appunto questi keyframes con criterio. Non fate che il titolo da qui lo spostiamo qui, poi lo ingrandiamo, lo riduciamo, no, mi raccomando ragazzi, cerchiamo di fare un lavoro sempre pulito. Cioè il titolo compare qui, lo facciamo sparire e basta. Creiamo appunto un'animazione, massimo due e basta. La cosa interessante da poter utilizzare al meglio questi keyframes sono appunto nei timelapse, perché lì appunto, avendo un'immagine sempre ferma, comunque con un movimento che va dall'alba al tramonto, nuvole e tanto altro, appunto con i keyframes, con questa animazione, daremo allo spettatore il movimento del timelapse, quindi come se la nostra macchina in quel momento ha anche fatto un movimento. È davvero molto molto bello, come avete visto insomma nella intro di questo video. Quindi mi raccomando, cercate di utilizzare al meglio questi keyframes. Quindi ragazzi, che dire, il video è terminato, spero che vi sia piaciuto, vi invito a lasciare come sempre un fantastico pollice, proprio appunto per supportare il canale e mi rende ad essere davvero molto felice. Se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi qui sul mio canale di YouTube, sulla pagina di Instagram e anche sul canale di Telegram, che lì pubblico varie offerte molto molto vantaggiose. Quindi, l'appuntamento di oggi è terminato, noi ci becchiamo come sempre in un prossimo video. Ciao belli, alla prossima!